ciao a tutti e bentornati sul canale di safutobu eccoci qui oggi con una nuova guida al platino oggi vi ho portato cario un titolo disponibile sul playstation store sia per playstation 4 che per playstation 5 a 1 euro e 99 centesimi è un gioco disponibile in quattro varianti cario cario 2 cario 3 e cario 4 e ognuna di queste ha un totale di 71 trofei incluso anche il platino cario è un titolo davvero facilissimo da platinare dovremo semplicemente accumulare 1.400 punti e per accumulare punti dovremo semplicemente guidare ed evitare le rocce o meteoriti che cadranno dall'alto evitandoli con lo stick sinistro del pad girando a destra e sinistra in caso di contatto con una roccia perderemo una vita e ne abbiamo a disposizione tre per ogni partita nel caso in cui perdessimo tutte quante le nostre vite a disposizione dovremo ripartire da capo con il punteggio azzerato queste sono le meccaniche base del gioco davvero molto semplice evitate le rocce che cadono dall'alto accumulate 1.400 punti e sbloccherete tutti quanti i trofei e il platino per quanto riguarda il tempo di completamento si tratta di un gioco anche piuttosto veloce da finire serviranno solo 3-4 minuti per sbloccare tutti quanti i trofei e questo è tutto per questo video io vi ringrazio per averlo seguito fino alla fine spero che vi sia piaciuto vi invito come sempre a lasciare un like un commento e a condividere il video per supportare il canale inoltre vi ricordo che se vi interessano altre guide al platino sia di giochi facilissimi che di tripla ne trovate moltissimi sul nostro canale e vi lascio il link sia qui sotto nella descrizione e anche nella home page del nostro canale grazie ancora a tutti e alla prossima